VOGA 2016! Pronti per nuove avventure? O meglio, il relax? Io sono sempre aperto alle nuove esperienze, sono sempre pronto alle nuove avventure, sono sempre disposto a visitare posti nuovi, a conoscere nuove persone, a provare percorsi alternativi, a visitare luoghi differenti, a provare nuove esperienze. Perché no? Purché possibilmente l'avventura non abbia il rischio di esplodermi fra le mani, questo gradirei evitarlo, appunto gradirei evitare di restarne gravemente ferito o menomato per un'avventura che sapevo potevo evitare, magari. Però, per il resto, sì, decisamente sono molto aperto, magari se sono in vacanza cercherò di creare un equilibrio tra nuove avventure e relax, perché ho anche bisogno di tirare un attimo il fiato. Comunque questo è quello che penso io. Tu invece sei pronto per nuove avventure, meglio e relax? Una via di mezzo equilibrata, un po' come faccio io? Non lo so, fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è VOGA 2016, noi ci vediamo domani! Ciao! Ciao!